Alessio Pignatelli, celebriamo questo momento della Margutta che è capolista da sola adesso del campionato del Giugno B di Serie C a causa della sconfitta della Virtus Latina. Come avete accolto questo bel risultato? Siamo sicuramente felici di questo risultato della squadra di Latina e direi anche che è molto di peso da noi che continuiamo ad avere la nostra marcia trionfale e speriamo di continuare ad averla. Nonostante le cessioni in estate, gli addirci sono stati e il fatto che avete inserito tante giocarrici del settore giovanile in prima squadra, siete sempre ai vertici di questo campionato per cui conferma che il lavoro c'è, è importante quello che state facendo. Sì, la squadra è allestita bene anche a livello di ruoli, nel senso che c'è una buona intercambiabilità tra le titolari se così si possono chiamare e le ragazze che subentrano durante la gara. Quindi abbiamo un organico di qualità ma soprattutto ben allestito a livello di ruoli. Abbiamo visto in campo contro Roma 86 una gara che sembrava abbastanza semplice, poi nel terzo set difficoltà con il 13-2 per quanto riguarda le capitoline e la bella rimonta che dà fiducia anche in vista della partita di sabato prossimo con il Volley Friends, una squadra che tra virgolette vi ha dato il primo posto. Esatto, sicuramente è stata una bella rimonta ma ti dico anche che probabilmente non doveva avvenire questa bella rimonta nel senso che dovevamo continuare a condurre la gara come abbiamo fatto per i primi due set dove sono andati via molto lisci. Sabato giochiamo contro Volley Friends, un'ottima squadra che proviene dal campione di B2 è una squadra sicuramente giovane ma sicuramente tenace e molto fisica quindi ci sarà da soffrire. Che atmosfera c'è in squadra? Deve fare un pochino plompiere, coach Pignatelli, visto il momento che state vivendo? Ma guarda no, nel senso che le ragazze sanno benissimo che eventualmente si festeggerà a maggio e non adesso non ha senso adesso avere degli entusiasmi e continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto l'obiettivo a lunga gittata è sicuramente il più difficile anche dal punto di vista mentale però ci siamo e lo teniamo ben presente ad ogni riunione del lunedì.